a dotto vede panzera in posizioni di guardia il taglio di guatmi con il suo primo tiro dai quattro metri morbidissimi sicurissimo da parte sua lo segna con la facilità si cerca al centro dell'area scoric che sul scambio ancora la giocatrice portoricana con la play veneta ancora guatmi fuori dalla linea da tre punti non è esattamente la sua macchina ma spara moroni ancora verso orazzo dentro a scoric che attacca panzera scarica per vinci laio primo tiro del campionato si assolutamente uno su uno al tiro senza senza paura subito assegno prova a rispondere trucco alla puntisce valeria trucco importante da tre punti poi vinci laio attacca trova il taglio centro punti per lei un fattore a centro aria fino a questo momento per sassari che impatta a 7 prova a rispondere razza ancora da tre punti squadra nei primi secondi di gioco le percentuali sono altissime diciamo che le difese per il momento sono ancora un po' ballerine prova ad approfittarne ora e direi che le misure le trova per tutto per guatmi si chiude l'alto basso con razza che in post basso cerca di addormentare un po' il gioco anche in questa zona cerca un po' di rallentare l'attacco del jazz chi non rallenta mai e jasmine guatmei e panzera ribaltare lato per gorini si trova ad attaccare il ferro viene chiusa allora riapre la compagna di squadra difensiva con gorini a marcatura di orazio ancora moroni che trova una linea di penetrazione lontano dal versaggio parte la transizione di sassari con il tiro di vinci laio la dinamo sassari ancora a zona 2-3 per provare a sparigliare le carte con scoric che gioca nuovamente a due con moroni moroni nell'angolo per orazzo che mette a posto i piedi e brucia l'aretto lo scambio con trucco che vede guatmei in mezza ruota guatmei facile panzera ad affrontare questa zona 2-3 che si adatta abbastanza ma la prova a trucco lasciata che ora deve difendere dall'attacco di moroni che trova scoric dalla lunetta panneggia il resto e tiro è morbido jazz che ora ritorna in attacco con jasmine guatmei liberata panzera con metri di spazio il jumper di 5 metri scoric che però finisce corto panzera guida la transizione vede il talne da quella che è la sua mattonella preferita il post basso da orazzo la transizione di vinci laio che vede la stessa orazzo ogni pa corto sul primo ferro è ancora adotto a sfruttare il pick and roll di razza lasciata libera dai 4 metri e zanotti non rinuncia neanche in questa occasione alla sua super stella portoricana razza che spiega palacanella non è assolutamente timida al momento è la miglior marcatrice della squadra sarda questa partita come abbiamo detto in premessa servirà per oliare per farla entrare nemecchi farsi trovare sicuramente pronta nota positiva di fietta che lotta e recupera un pallone in tuffo non è premiata dal successo ma non si dà per vinta e recupera un rimbalzo in attacco poi cresce a Roma poi accosta Masnaga e Algea sta quest'anno insomma e storice sovrastata da Guatnik che lancia la transizione ancora per Gorini la finta meravigliosa di tiro da tre punti palleggio incrociato e ha un suo pericolo tra Serbia, Ungheria, Slovacchia bronzi a Eurobasket 2019 e oro con la Serbia Palanat prova a gestirlo in solitaria la palla è per dell'olio che attacca dal post basso poi ci vediamo